Rimini capitale del disegno. Sabato si alzerà il sipario con una grande inaugurazione negli spazi della Sala dell'Arengo di Piazza Cavour alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla Biennale del Disegno, Il Nido dell'Idee. Un evento unico nel panorama dell'arte in Italia. Da Parmegenino a Kentridge, da Ugo Pratta a Fellini, mille disegni saranno esposti in 23 mostre, allestite nei luoghi più suggestivi della città. La prima edizione della Biennale, che vuole diventare un punto di riferimento per il genere, si chiuderà l'8 giugno. Come Mantova al Festival della Letteratura o Venezia alla Biennale d'Arte, ecco come dire una provocazione. De-ombrellonizziamo la città. L'antico e il moderno, il contemporaneo, Guercino, Tiepolo, Kentridge, Fontana, Depisis, gli artisti contemporanei più importanti che il paese ha, ospitati, diffusi in questa città che apre le sue meraviglie. Il Teatro degli Atti, l'Arengo, la Galleria d'Arte Moderna Contemporanea, il Museo, spazi che faranno vivere la città con l'arte e la cultura offrendo questa nuova proposta di Rimini agli italiani e ai turisti stranieri. Mancava nel panorama non solo nazionale ma anche internazionale una rassegna che indagasse questo argomento con un ventaglio possibile sia temporale che di applicazione, di discipline, perché ci sono opere che dal Cinquecento vanno alla contemporaneità e ci sono opere che dal disegno preparatorio alla pittura vanno a quello per la scultura, all'architettura, al design, al fumetto, al cinema come il libro dei sogni di Fellini.